Ancora una settimana all'inizio del campionato mondiale Superbike 2022 dunque tempo come tutti gli altri campionati motoristici che ho fatto sul canale di presentare la stagione 2022 a una settimana dall'inizio della stessa Si partirà per la Superbike il 9 e 10 aprile al Motorland di Aragon per poi concludersi a Phillip Island che sarà di ritorno per concludere il campionato delle derivate dalla serie 12 appuntamenti in programma per un calendario che è praticamente immutato anzi sono state più che altro tolte delle gare anziché aggiunte rispetto alla versione precedente Perché per esempio basti pensare che dal calendario 2021 è stata tolta sia Navarra sia Red della Frontera sempre tracciati spagnoli C'è il doppio appuntamento in Portogallo, due appuntamenti in Spagna, un appuntamento italiano che è quello di Misano peraltro confermato dopo che l'anno scorso appunto si è tenuto sempre in questo periodo Il campionato di Misano che ho avuto modo e l'onore diciamo anche di vederlo lo scorso anno dal vivo con la doppia vittoria incredibile di Michael Rinaldi su tre gare ovviamente con la Ducati ufficiale Per il resto è un calendario appunto che conferma il format degli anni passati quindi due gare lunghe al sabato e alla domenica E poi alla mattina della domenica ci sarà la sprint race o super pole race di 10 giri per determinare la griglia di gara 2 con i primi 9 classificati che saranno appunto i primi 9 a partire nella gara della domenica Si chiude come dicevo appunto in Australia per una tre giorni che va a concludersi una tre settimane meglio di gare che va a concludersi tutto al di fuori dell'Europa con Argentina Indonesia appunto la rientrante Phillip Island che concluderà il round mondiale della super bike il 19 e 20 novembre nel storico appunto circuito australiano Che dunque fa di ritorno nel calendario dell'arrivata della serie dopo due anni dall'ultimo per un campionato super bike che quest'anno sarà molto interessante E vedrà probabilmente anche una volta il duello tra la Yamaha di Topalakasatioglu il pluricampione del mondo Jonathan Ray su Kawasaki E una Ducati che effettua una scelta discutibile anziché no ma comunque che lascia degli interessi assolutamente importanti Andiamo a vedere allora quelli che sono i piloti principali di questo campionato mondiale super bike a partire dalla classifica diciamo dello scorso anno E appunto partiamo con Topalakasatioglu che è confermato nella Yamaha ufficiale Una Yamaha ufficiale che ha vinto meritatamente il titolo con il pilota turco che evidentemente ha fatto quel click mentale e tecnico Soprattutto per aver ragione di un pluricampione del mondo come Jonathan Ray E ha interrotto la streak Topalak del campione nord irlandese e dunque sarà pronto ancora l'ennesima conferma In questo caso da difendente del titolo in una squadra della Yamaha ufficiale Che comunque ha tanto su cui puntare anche per quanto riguarda il secondo pilota Perché oltre ai campioni del mondo Topalakasatioglu abbiamo il primo dei quattro italiani in gara Ovvero Andrea Locatelli che ha fatto una grande maturazione lo scorso anno A partire soprattutto dalla seconda metà della stagione dove lo avevamo sempre nei primi 4-5 posti Con anche punte di terzi posti quindi due Yamaha ufficiali competitive per il podio Ed è qualcosa di incredibile considerato che fino a qualche anno fa la casa di tre la posonera Assolutamente un fattore inferiore rispetto magari alle big potenze che sono stati appunto Kawasaki e Ducati Una Kawasaki ufficiale che appunto deve confermare e riscattarsi evidentemente dalla stagione scorsa Ha confermata la coppia Jonathan Ray-Alex Losse per la prima volta dopo tantissimi anni Jonathan Ray torna al numero di careno originario ovvero il suo 65 Il nord irlandese proverà di conseguenza di nuovo l'assalto all'ottavo titolo del mondo superbike Contro questo Toprak in realtà non sarà così facile perché abbiamo visto che una volta che è entrato in clear mind Diciamo Topalakasatioglu è veramente difficile da fermare Ma Jonathan Ray ha tutte le carte in regola e il talento e anche la moto mi verrebbe da dire Per provare evidentemente a confermare un titolo che evidentemente lo reputerebbe ancora di più Negli GOAT di questa disciplina in realtà a riconquistare più che a confermare Il compagno di squadra di Jonathan Ray è il confermato Alex Losse Che in realtà l'anno scorso è mancato rispetto magari alle potenzialità del pilota della moto Ci si aspetta anche per Alex Losse fratello di Sam una conferma verso l'alto Losse è in grado quando è in forma di effettuare podi e anche vittorie Qua e là è più un pezzato che un vincente ma sarà importante anche il suo contributo in ottica Anche campionato costruttori Chi torna un attimo indietro invece è la Ducati che scambia Scott Redding con Alvaro Bautista Il cavallo di ritorno spagnolo che ha buttato via il mondiale del 2019 mi verrebbe da dire Dopo aver fatto una parte iniziale di stagione veramente incredibile Dove dominava gli avversari e vinceva per dispersione anche il turno da quel Jonathan Ray Che poi vinse il titolo a Manicur Bautista in realtà il titolo lo perse per via di troppi errori e cadute nella seconda metà della stagione È andato via da Ducati in cambio di Scott Redding Scott Redding che poi è andato in BMW e appunto Ducati si è diciamo riappropriata del pilota spagnolo Che comunque è un grande veterano oramai di questo campionato Ha già dimostrato comunque di essere molto in palla nei test prestagionali che sono svolti a RS e anche a Barcellona Attenzione però che non vada a replicarsi il fuoco di paglia che si è creato l'anno scorso Quindi con una streak di vittorie incredibili nella prima metà e poi un calare vertiginoso Ma l'anno scorso o meglio nel 2019 c'era anche Jonathan Ray come avversario Adesso c'è anche Topras Gazzettioglu e ci saranno anche tanti altri piloti che possono fare gli spoiler per magari dei podi qui e lì Ducati Ufficiale che comunque conferma uno degli altri italiani che abbiamo impegnato in questo campionato mondiale superbike Ovvero Michael Rinaldi che comunque viene da tre vittorie l'anno scorso con la Ducati Ufficiale E podi qui e lì Ducati che comunque ha puntato tanto su Scott Redding e Rinaldi invece era rimasto un po' nelle retrovie Mi aspetto in questo secondo anno di Ducati Ufficiale la maturazione completa della pilota di Rimini Che evidentemente può e deve sicuramente fare quel click che lo può portare indubbiamente a competere con l'altro italiano competitivo che abbiamo visto prima Ovvero Andrea Locatelli che invece lui il salto lo ha fatto prima Rinaldi ha tante aspettative per quanto mi riguarda e di conseguenza spero che queste aspettative su Ducati vengano confermate Passiamo alle altre due squadre ufficiali del campionato mondiale superbike In questo caso BMW e Honda una BMW che appunto come detto più volte ha ingaggiato Scott Redding Una Scott Redding che si è trovato bene inizialmente nei primi test ma poi nelle ultime prestazioni di prova ha evidentemente accusato qualche proverbino alla sua M1000RR Una BMW che comunque a parco piloti come vedremo poi avrà sicuramente tanto da offrire quantomeno a nomi Bisogna vedere se a questi nomi poi si associerà una moto competitiva A BMW abbiamo sempre visto una moto con molto meno motore ma molta diciamo trazione soprattutto in curva E quando c'era Tom Sykes il BMW era in grado anche di fare evidentemente delle pole position Scott Redding è il cavallo di punta su cui spunta di fatto la scuderia tedesca che in realtà nel team ufficiale si appoggia a un team britannico ovvero quello di Sean Muir La coppia Redding-Vandermark è comunque parecchio interessante Vandermark che è stato comunque confermato dopo le buonissime prestazioni dello scorso anno in particolare anche lui della seconda metà La coppia Redding-Vandermark appunto è molto interessante Il cavallo da titolo o quantomeno da podio perché secondo me sulla carta Redding con queste BMW non può competere al titolo A meno che la scuderia di Monaco non faccia degli investimenti e degli aggiornamenti incredibili Vandermark comunque può essere anche lui insieme a Redding uno spoiler per il podio Le prime 5 posizioni ha segno che in generale il livello del campionato Superbike anche quest'anno è tanto tanto equilibrato L'ultima squadra ufficiale è la Honda, una Honda che rivoluziona tutto e punta su due piloti giovani ovvero Iker Lecuona e Xavi Vierge Iker Lecuona e Xavi Vierge vengono direttamente di fatto rispettivamente da MotoGP e Moto2 Iker Lecuona l'abbiamo visto nel team KTM Tektroa senza grandi risultati ma comunque è un pilota giovane che in MotoGP non ha avuto modo di esprimersi Ha fatto tanta gavetta in Moto2 ma anche lì i risultati sono arrivati anziché no Xavi Vierge invece fa il grande salto perché è stato un eterno in Moto2 Ha fatto qualche gara importante il 97 e poi è passato di categoria nelle derivate della serie È una scuderia molto giovane, quella del team mondo ufficiale che può sicuramente purre le basi per un futuro importante La nuova Fireblade sembra comunque più importante rispetto agli anni in cui c'erano Bautista e Aslam Vedremo già alla riprova della prima gara stagionale il 9-10 aprile a Motland di Aragon come si comporteranno appunto i due piloti spagnoli Detto questo passiamo agli altri team che tra semi ufficiali e clienti completano il numero di 24 piloti E andiamo in ordine secondo la grafica di Wikipedia inglese partendo ovviamente dall'alto e parliamo di Roberto Tamburini Che è uno dei nuovi entrati di fatto in questa Superbike Lui che corre con il team Yamaha Moto X Racing che fa il salto di categoria dalla Supersport alla Superbike Tamburini in realtà sostituisce Isaac Vignales che era il pilota titolare fino di fatto ai test di Barcellona Poi non hanno trovato più l'accordo economico di conseguenza c'è spazio per Roberto Tamburini Classe 91 di Rimini pilota esordiente Superbike dunque alto italiano da tenere in considerazione Il team Yamaha GRT conferma Cotano Zane che ha fatto una discreta stagione lo scorso anno Ma non dovrebbe avere grosse velleità quest'anno Insieme comunque a Garrett Gerloff lui invece deve assolutamente riscattarsi Perché abbiamo visto nel 2020 che Gerloff è stata la più grande sorpresa del campionato Superbike Una Superbike che poi nel 2021 non lo ha visto più protagonista Complice anche errori grossolani, un recupero da un punto di vista psicologico e di fatto un ripartire da zero Per Gerloff il 2021 secondo me sarà l'anno della consacrazione, l'anno della verità Passiamo al Team Bo11 che di fatto sostituisce Chats Davis che si è ritirato lo scorso anno con Filipe Huttel Che fa il salto dalla Supersport 600 quindi spazio dopo Stefan Braddol per un altro tedesco in Superbike Passiamo poi agli altri team clienti quindi andiamo direttamente al GIL Motorsport Yamaha Team Che conferma Christophe Poulson e poi passiamo a uno dei miei pupilli ovvero Luca Bernardi Che di fatto è stato assoldato da Ducati nel Team Barney Team Barney che dopo di fatto l'addio di Xavi4S tanti anni fa non è più tornato ai livelli di team clienti Che faceva dei podi e faceva dei risultati molto importanti Dopo anni di avvicinamenti di piloti che hanno più o meno fatto fatica Adesso si punta sul giovane San Marinese uno dei miei idoli di fatto delle derivate della serie Che ha fatto tanto bene in Supersport lo scorso anno col team CM Racing E adesso fa il grande salto con Ducati Andrà aspettato Bernardi e di conseguenza non mi aspetto che possa essere subito un crack in questa Superbike Però per il futuro attenzione perché il 29 da tenere d'occhio senza se e senza ma E di conseguenza in generale tra Italia e San Marin abbiamo tanti piloti di fatto nell'arco della penisola da sparare Il Team Mie fa un acquisto dalla MotoGP o meglio dalla Moto2 Ovvero il malese a Fitz Siarin che ha fatto anni in MotoGP è tornato in Moto2 E poi appunto complice un anno di Moto2 complicato va a fare la comparsa evidentemente nel Team Mie Che di fatto il Team Honda cliente che l'hanno scluso non era un fattore Confermato anche il pilota argentino di Imola Perché il pilota Leandro Mercado vive a Imola Appunto il 36 fa l'ennesima stagione di Superbike Non dovrebbe essere anche lui un grosso fattore È già tanto che possa arrivare a punti Mi aspetto tanto invece da Lucas Maia Pilota francese che corre con il Kawasaki Team Puccetti Che in Supersport fa tanto la differenza Il Superbike non ha mai di fatto trovato la quadra Se non quando c'era Toprak Rasgatioglu Ovviamente Maia non è paragonabile a Rasgatioglu Maia è un grandissimo veterano che comunque ha del talento da vendere E sarà importante anche per lui riscatarsi dopo una stagione che l'anno scorso In realtà lo ha visto sì e no anche per via di grandi infortuni Altro pilota di rivelazione non abbiamo ancora parlato Lo facciamo adesso è stato Axel Bassani lo scorso anno Confermato col Team Motocorsa Bassani addirittura pronte via è arrivato a podio Il giovanissimo pilota Veneto ha fatto una grande stagione Probabilmente uno dei migliori ruchi da tanto tempo a questa parte Nel campionato delle derivate della serie Confermato in questa Ducati che appunto ha fatto l'esodio l'anno scorso E non poteva che essere altrimenti Ancora una volta il binobio Bassani Motocorsa Sarà a tenere d'occhio anche per questa stagione Bassani come dicevo insieme a Locatelli, Rinaldi E mi auguro in futuro anche Bernardi Possa essere uno dei nostri atleti Anche se Bernardi è di San Marino Che può puntare clamorosamente Sempre alla Top 10 Un team per mio modo di vedere Molto interessante invece è il Bonovo Team Action BMW Che di fatto appunto è la seconda scuderia Della casa di Monaco Il team cliente, il team satellite Che conferma Eugene Laverty Che finalmente rientra a tempo pieno in Superbike Ed è una grande addizione questa Secondo me quantomeno ha nome Per quanto riguarda la BMW E poi arriva Loris Bass Che ha sottolineato il Chad Davis L'anno scorso nel Team Go Eleven Dunque non essendo stato confermato Di fatto trova posto in BMW Loris Bass è un piatta Che l'anno scorso Pronti via È arrivato in Top 5 Con una moto sicuramente più competitiva L'anno scorso il team Bonovo Non lo era Vedremo se Laverty e Bass Riusciranno sicuramente a fare meglio Concludiamo il nuovo Dei partecipanti Con il team Orelac Kawasaki Che schiera il cieco Oliver Koenig Che fa il doppio salto Dalla Supersport 300 Alla Superbike E poi concludiamo con Loris Casson Pilota belga Confermato nel team Pedercini Che non dovrebbe essere un fattore È segnato anche Tyler McKenzie Che è uno dei piloti di punta Del British Superbike Tyler McKenzie È un pilota scozzese Che non sarà un pilota regolare Farà qualche wildcard Qui e lì Nel corso della stagione Probabilmente tre Di sicuro una a Donnington Le altre vedremo Ma Tyler McKenzie È in procedura di andare In Superbike Il prossimo anno Quindi nel 2023 Cluso la parentesi Della Superbike Passiamo alle altre categorie Di contorno Ovvero la Supersport E la Supersport 300 Una Supersport Che sarà un campionato Molto interessante Perché hanno cambiato I regolamenti tecnici Hanno ampliato La cilindriata delle moto Che possono entrare In questo campionato Delle derivate della serie E di conseguenza Spazio per Il nuovo Ducati V2 900 E la Triumph 765 RS Nonché il nuovo modello Della MV Agusta F3 800 Per un campionato Che di fatto Si rilancia O meglio Tenta di rilanciarsi Dopo il monopolio Kawasaki Yamaha Che comunque Sono tanto tanto presenti In questo campionato Ma abbiamo Delle moto in più E di conseguenza Probabilmente Le carte Saranno tanto da Rimescolarsi In un campionato Che prevede 30 piloti In tutto Di cui 7 Per l'europeo Andiamo in ordine In un campionato Che comunque Ha un uomo da battere Che è il numero 77 Ovvero Lo svizzero Dominic Egerter Uno svizzero Che è confermato Nel team Tankate Racing L'anno scorso Egerter ha dominato La stagione Della Supersport Vincendola veramente Per dispersione E non trovando Posse in Superbike Che è stato confermato Nella categoria inferiore E di conseguenza Egerter avrà Ancora un compito Argo Quello di difendere Il titolo Contro queste Ducati Che sembrano Assolutamente competitive E anche con Tanti piloti di livello Egerter comunque Secondo me È ancora l'uomo da battere Ma ripeto Sarà un campionato Di Supersport Assolutamente interessante Gli altri team Li vediamo in ordine Partiamo dall'alto Con Raffaele De Rosa Che rimane Nel Team Oralac Ma il Team Oralac Cambia casa costottrice Perché l'anno scorso Era su Kawasaki E quest'anno È sulla prima Delle 6 Ducati V2 900 De Rosa Ha vinto In passato Il campionato Delle Superstock 1000 Con Ducati Era il Team Aruba In quel caso E di conseguenza C'è un ritorno al passato Per il pilota Campano Andiamo avanti Con il Team MotoZo Racing By Puccetti Che di fatto È una squadra B Del Team Puccetti Che vediamo qui In Supersport Viene confermato Jeffrey Buiz Campione mondiale Di Superport 300 Nel 2020 Dopo l'è compasso Lo scorso anno Ma Jeffrey Buiz Correrà solo Le gare europee Di conseguenza Considerato che Il calendario Della Supersport Non correrà Gli ultimi eventi Quanto meno Con questi piloti Che hanno La C Marchiata di fianco Al nome Negli eventi Saranno soltanto 9 Le gare per Quelli dell'europeo Anziché Le classiche 12 Della Supersport L'altro pilota L'altro pilota L'altro pilota confermato O meglio Ingaggiato È l'australiano Benjamin Curry Che viene anche lui Dal British Superbike Il Team Evan Bross Sarà un altro team Da tenere d'occhio Confermato in questo Su Yamaha Confermato Peter Sebastian L'ungherese Dopo la stagione Dello scorso anno E poi arriva Lorenzo Baldassarri Pilota Dalla Moto 2 Ed è la Diciamo Seconda volta Che è un pilota Dalla Moto 2 Delle categorie Prototipi Quindi MotoGP Appunto Moto 2 Moto 3 Passa in Supersport E l'ultima volta Che è successo Sul Team Evan Bross Fu la stagione Dominante Di Andrea Locatelli Quindi attenzione Perché Baldassarri Su questa moto Potrebbe assolutamente Fare bene Dopo anni Di anonimato assoluto In Moto 2 Passiamo al Team VFT Che conferma La Yamaha Come casa costottrice E conferma Un altro grande Pilota della Supersport Che a me piace tanto Ovvero Kai Smith Uno dei maghi Della pioggia Di questo Campionato Insieme allo svizzero Marcel Brenner Che invece lui Correrà soltanto In nove round In Europa C'è un altro team Di Yamaha Che è l'MS Racing Che conferma Un Iron Radre Pilotino Molto interessante Spagnolo Che primele Dalla Supersport 300 Insieme al cieco Andre Vostatec Entra a Ducati Entra il team Aruba Anche in Supersport E si affida Al pilota di Montecchio Emilia Nicolo Bullega Che ha fatto Anni disastrosi Tra Moto 3 Emoto 2 Disastrosi In relazione Alle aspettative Che aveva Il pilota di Montecchio E di conseguenza Viene mandato In Supersport Con una moto Che sulla carta È molto competitiva È di fatto Appoggiata Dal squadro ufficiale Perché Aruba In Superbike È la squadra ufficiale Di conseguenza Le aspettative Per Bullega Saranno alte Non sarà però Uno dei miei pupili Di questa Supersport Il mio pupillo Arriverà più avanti Nell'elenco Altra squadra con Ducati Squadra esordiente Quella del G34G Racing Che è di fatto Il team di Davide Giuliano Ex pilota Superbike Che correrà soltanto L'europeo Con i fratelli Fuligni Dunque a Filippo Viene affiancato Federico Prima volta Che i fratelli Corrono insieme Altro team Da tenere d'occhio Assolutamente Per il titolo È il team GMT 94 Ancora una volta Jules Clusel È il nove Dei partecipanti Di questo Condendosi il titolo Del campionato mondiale Supersport E a lui Viene affiancato Andi Verdoyat Pilota francese Molto giovane E molto talentuoso Del team Team Cat Abbiamo detto Il team EAB Conferma Yamaha E conferma Glenn Van Stralen E poi arriviamo A uno dei miei idoli Assoluti Per il team Barney Che dunque Entra in Supersport Oltre che appunto Di essere confermato In Superbike C'è Oliver Bayliss Che è il figlio Di Troy Leggenda Del team Appunto Ducati in Superbike Colui che Da wildcard Da piatto sostitutivo Voi vinse Nel campionato MotoGP Una gara a Valencia Nella doppietta Ducati incredibile Che poi regalò Il mondiale A Nicky Hayden Sarà lui Uno dei miei pupilli Da attenzionare Assolutamente Per questo campionato Supersport Oltre Bayliss È giovanissimo Andrà aspettato Ma comunque Avrà la mia Grande attenzione Così come avrà La mia grande attenzione La Triumph Che dunque Torna dopo 4 anni Di assenza Nel mondiale Supersport Con la nuova Street Triple 765 RS E conferma Due piloti Parecchi interessanti In particolare L'Eston Hannes Sommer Che ha fatto bene L'anno scorso Con Yamaha Del team Caglio Racing E poi Arriva Stefano Manzi Altro pilota In esubrio Dalla Moto2 Che comunque Ha fatto discretamente bene L'anno scorso In una comparizione In Supersport Di fatto cambia Completamente line up C'è il tedesco Patrick Ovesberger Che anche lui Ha fatto bene Nelle poche gare Che abbiamo visto L'anno scorso Con della Top 10 E poi c'è il debutto Per un altro italiano Alessandro Zetti In Supersport L'MV Augusta Raddoppia E di fatto Amplia il regolamento Tecnico della sua moto Schierando la F3 800RR Conferma Niki Tuli Croce edilizia Evidentemente Di questa squadra Della Supersport Un pilota che può fare Benissimo Come malissimo Ma è un pilota Che a me sinceramente Piace abbastanza Per quanto L'anno scorso E' stato veramente Tanto falloso Oltre che non soprattutto Da una moto Che non era proprio All'altezza La coppia però Della MV Augusta E' molto molto interessante Perché è vero Che correrà soltanto L'europeo E' vero che farà Solo nove gara Della stagione Ma viene Fatto promuovere Bahati Sofoglu Che è uno dei piloti Più importanti Più interessanti Da vedere Soprattutto in ottima futura La squadra turca Ancora una volta Dopo il re Kenan Sofoglu Dopo Tobla Gazet Oglu Punta ovviamente Sul nipote Del re E di conseguenza Attenzione Al 54 Non per quest'anno Magari però Per gli anni prossimi Altro team Che può evidentemente Competere per il titolo E' il team Kawasaki Puccetti Che conferma Gian Onciu Altro piatto Della scuola turca Che comunque L'anno scorso Ha fatto vedere Che sa migliorare E essere anche lui Meno falloso Viene poi Confermato in Supersport Iari Montella Dopo che è stato appiedato L'anno scorso Dalla Moto 2 E anche lui ha fatto Una comparsata L'anno scorso Montella dunque Sarà uno dei piloti titolari Di Puccetti Altra squadra parecchio interessante Che siccome è parecchio interessante La squadra di Altea Racing Che dunque Dopo anni In Superbike Con BMW Riparte dalla Supersport E lo fa ancora una volta Con Ducati E il pilota E sicuramente Uno da titolo Ovvero Federico Caricasulo Che si è giocato Il titolo con Krummenacher Quando I due team Di Evan Bross Erano evidentemente Competitivi Era il 2019 E di conseguenza Caricasulo deve ripartire Ancora una volta da zero Ma sarà Tanto tanto importante Secondo me Una moto di questo tipo Dunque Attenzione Anche al 64 Il team Rodina Debuta in Supersport E fa salire Tombuth Amos Che di fatto Ha giocato l'anno scorso Il mondiale Con Adrian Huertas Il ultimo pilota Di questo elenco Su Ducati È Maximilian Koffler Che di fatto Prende il posto Di Bernardi In CMRS In CMRS Che passa da Yamaha A Ducati E Koffler Di fatto È il primo austriaco Dopo Thomas Gradinger A esordire In Supersport E l'ultimo pilota È Adrian Huertas Che è il campione mondiale In carica Di Supersport 300 E insieme a Butemus Di fatto Ha fatto il salto Di qualità Huertas Però correrà Tutto il campionato Mentre appunto Butemus Soltanto L'europeo Questo era la 600 E passiamo velocemente Alla 300 Per concludere Questo racing poker Di presentazione Una 300 Che ha cambiato tanto Non per quanto riguarda Il calendario Perché saranno sempre 8 gare Ma hanno cambiato Il regolamento tecnico Perché parliamo Soltanto 30 piloti Dopo i 40 E passa Che erano fino Alle passate stagioni Ci sono Tanti piloti Interessanti Tanti giovani È una categoria Che si rinnova Perché tanti campioni Del mondo Sono andati via Dal paddock Delle 300 Anaccarazco Andati in moto 3 Abbiamo visto che Buiz E Huertas Sono andati Evidentemente In 600 Così come Boutheimos L'unico campione Del mondo Rimasto È Marc Garcia Che fu il primo Iridato Evidentemente Di questa Categoria Nel 2017 E poi ci sono Tanti altri Da tenere d'occhio Per quanto riguarda Il titolo del mondo In particolare Samuel Disorat Francese Del team Flambo Su Kawasaki La Super Sport 300 Ricordiamo che di fatto Anche qui è un monopolio Kawasaki Yamaha Con una sola KTM Quella di Leman Lennox Che di fatto Sottituisce Victor Steman Victor Steman che passa Al team Che sarà da battere Secondo me Ovvero MTM Kawasaki Il 72 Di fatto Farà coppia Con l'altro Olandese Ruben Baiman Che ha fatto vedere Cose interessanti Lo scorso anno Anche se è abbastanza Falloso E poi Utah Kaia Sarà il terzo Alfiere del team Alfiere del team Olandese Che secondo me Sarà quello Da battere Senza se E senza ma Ci sono 30 Piloti Ci sono dei Debuti Interessanti In particolare Abbiamo Il greco Ioannis Peristeras Che di fatto È il primo Giocatore Atleta Meglio greco A esurdire In Super Sport Abbiamo anche Il primo Filippino Della storia Ovvero Troy Alberto Che corre con Fusport Kawasaki Che fa coppia Con Dirk Geiger Ci sono anche qui Degli italiani Importanti Da tenere d'occhio Il più competitivo È sicuramente Bruno Ieraci Che l'anno scorso Non ha fatto il titolare Ma adesso Ha il team Prodina dalla sua Che era di fatto La squadra Di Bufemus L'altro italiano Secondo me Su cui si può appuntare È Kevin Sabatucci Che di nome Deve assolutamente Riscattare Delle stagioni Disastrose Gli anni scorsi In Super Sport 300 E ha una moto Comunque interessante Quella del Kawasaki GP Project Che vinse il titolo Di fatto Con Manuel Gonzales Poi Gli italiani Molto interessanti Abbiamo Mirko Gennai Con il numero 26 E poi Marco Gaggi Autore di Top 10 Evidentemente Nell'anno scorso Gli altri italiani Sono Matteo Vannucci Con il 91 Sono Alessandro Zanca Con il 59 E poi Davide Conte Con il numero 10 Di conseguenza 30 piloti Per un cambiato Molto equilibrato Secondo me Appunto I possibili titolati Della 300 Sono quelli che vi ho indicato Vedremo se i pronostici Saranno confermati O modificati In base a un campionato Che sicuramente sarà Un bagno di sangue Un macello Come oramai Qualunque categoria Di motociclismo leggero Si rispetti Di conseguenza Questo è stato il podcast Di presentazione Della Superbike Una Superbike Che dunque conferme 24 piloti Una Super Sport Che si rinnova Dal punto di vista tecnico E una Super Sport 300 Che si rinnova Dal punto di vista Nel numero dei piloti Partecipanti Saranno tre categorie Parecchio interessanti E di conseguenza Anche qui ci saranno I Racing Podcast Logicamente La Superbike Correrà In contemporanea Con la Formula 1 Il 9-10 aprile Di conseguenza Ci sarà prima Il Racing Podcast Della Formula 1 E poi il giorno dopo Parleremo Della Superbike Che dunque esordisce Ricordiamo Il 9-10 aprile Al Motorland Di Aragon Il saluto Da parte di Meteo Torgaard Ci vediamo lunedì Alle ore 19 O le ore 21 In base a quando Riesco a montare il video Per il Racing Podcast Della MotoGP Che corre in Argentina Questo weekend Che corre in Argentina